In questo brevissimo video vi mostrerò come inserire un virtual tour google street view all'interno del vostro sito o di una qualunque pagina html. Questo video è dedicato a persone che già sanno come si scrive un minimo di codice html o comunque come si gestisce e si modifica la pagina di un sito, può andar bene qualunque sistema di content management system, joomla, wordpress oppure l'html puro e possiamo procedere al video stesso. In questo caso noi ci troviamo già davanti alla scheda della pagina in questione, abbiamo scelto il Besserer Hof vicino a Bolzano e come vedete sotto in basso abbiamo la possibilità di visualizzare il virtual tour, quindi cliccare su guarda all'interno, a questo punto appare la pagina di partenza dove io poi posso decidere l'inquadratura da cui voglio partire, facciamo finta che sia questa. A questo punto è sufficiente che io faccia clic su questi tre pallini, qua sotto abbiamo condividi o incorpora immagine, quindi faccio clic qui, vado su incorpora immagine e a questo punto vedete che io ho un'anteprima delle dimensioni che saranno inserite nel mio sito. Io posso però andare qui e scegliere o piccole, vedete che l'incorporazione diventa più piccola, o grandi, oppure decidere la dimensione personalizzata in cui per esempio dico 900x600. Visualizzo l'anteprima, ok questa dimensione mi può andar bene perché sta dentro perfettamente nel mio sito e a questo punto non faccio altro che copiare questa stringa che posso andare ad inserire all'interno del codice HTML del mio sito. Ecco in questo caso io sono sul mio Joomla, sul mio sistema di gestione del mio sito e ho aperto il codice HTML, nella posizione che voglio incollo il codice dell'iframe, quindi aggiorno il codice, salvo e chiudo la pagina ed ecco che in quella pagina campione del mio sito è presente la panoramica esattamente come l'abbiamo inquadrata prima e da qui io posso proseguire nella navigazione. volendo fare più sezioni del sito è possibile semplicemente scegliere più punti di partenza e inserirli nelle varie sezioni del sito. Vi ringrazio e vi lascio al prossimo video.